Ha vinto l'onestà degli ortonesi, ha vinto la nostra coerenza, la nostra serietà, il nostro rispetto sia ai cittadini sia ai miei candidati, la mia squadra. Io ringrazio gli 80 candidati. A loro va tutto il mio ringraziamento per quello che hanno fatto. Noi siamo una squadra, non siamo quelli che si uniscono per vincere ma non per amministrare. Per fortuna che questo non è accaduto perché la coalizione del mio rivale avrebbe potuto vincere ma sicuramente non amministrare la città. Noi continueremo a lavorare. Il nostro programma era semplicemente la continuità amministrativa. Ce l'abbiamo fatta nonostante tutto. Le partite ci tengo a dire che le partite si giocano equamente, in parità. Hanno voluto giocare 190 candidati contro 80, 2 contro 1, ma hanno perso. Hanno perso. Hanno perso. E ha vinto la città. Ha vinto l'onestà dei cittadini e il senso di responsabilità dei cittadini. E noi non tradiremo la fiducia perché sappiamo che questa sarà una grande assunzione di responsabilità più dei cinque anni passati. Siamo consapevoli di questo ma noi non tradiremo la fiducia dei cittadini. Ortona deve continuare a camminare e deve raggiungere i traguardi che merita. Questo promettiamo alla nostra città. Una sola domanda al sindaco nel leggere questo risultato. Se non sbaglio lei ha preso praticamente al ballottaggio quasi tutti, forse anche qualcuno in più, dei voti che ha preso al primo turno. 5608 voti. Io ho preso più voti del primo turno. E' clamoroso. I due candidati sindaci insieme sono arrivati dietro di me. E' clamoroso. Questo è un dato di fatto. No ma è un fatto veramente clamoroso. Cioè il fatto che un sindaco rimotivi il suo elettorato in due settimane ad andare addirittura in più rispetto al primo turno è una cosa che credo non è mai accaduta. Probabilmente a Lanciano a Pupillo se non sbaglio. Signore, se mi posso permettere, chi è che ha motivato l'elettorato? Non sono stato io, ma è stato quell'accordo assurdo che hanno fatto i due candidati Cocciola e Di Nardo. Perché loro hanno motivato i cittadini a dare fiducia a chi non aveva tradito la loro onestà. Perché questo è stato fatto. Perché mettere insieme durante il gioco due programmi contrapposti non ha fatto breccia. E i cittadini non hanno abboccato. C'è stata una reazione dei cittadini a questo inciucio. E io grazie a questo ero certo che sarebbe stato un autogol per loro. E così è stato. Grazie.